Salve ragazzi, questo è il tentotto, indovinate dove siamo su Street Fighter V Ve l'avevo detto che lo portavo sabato E ho fatto solo, posso dire che ho fatto un errore Un banalissimo errore Ho involontariamente sbagliato La questione del personaggio Ero sicuro che ci doveva stare oro Bene ragazzi, non c'è oro C'è, scusate, c'è oro però C'è anche Akira Cioè hanno messo sia Akira e sia oro Hanno messo loro due Ci sono rimasto male Perché dovevano uscire in due mesi diversi Infatti oro doveva uscire il mese prima E Akira doveva uscire questo mese Invece li hanno messi tutti e due Hanno fatto benissimo Ma c'è solo uno spazio vuoto che hanno annunciato il nuovo personaggio Che è un altro maschio, non mi ricordo il nome però Quindi niente raga Oggi ci facciamo la campagna sia di oro Che era il personaggio che doveva uscire prima Storia Personaggio però Storia del personaggio E poi ci facciamo Akira Infatti è croco a uno Due e tre Infatti sono cinque personaggi Perché intanto è uscito Poi c'è Rose Poi ci sta oro E poi Akira Andiamo a fare prima oro Non so niente di oro So solo che come oro e Akira Sono personaggi del terzo capitolo di Street Fighter Non so altro Quindi con me vedrete il personaggio E l'esamineremo insomma Intanto tolgo qui che mi sta scocciando una cosa C'è il tavolo Intanto qua carica Vediamo Così Oddio sono vestito Cioè in senso che Vediamo se riesco a giocare Sto a giocare con il Josti Il ragionamento Nooo Ma cosa Volevo vedere Ma ti erano attaccati del mare Ragazzi E la mia impressione Ti erano attaccati del mare Paglia Ah Bella presa Non me l'aspettavo Che poi di lui è amico suo Cioè Almeno nella vecchia storia di Rose È perfettamente il reso di guardare in distanza Ma se ti guardi troppo Non vedrai cosa è sul tuo cuore È un mezzo saggio lui Un po' strano però Vediamo un po' Non vedo Ah, è il suo maestro Non c'è bisogno di rinforzare Inoltre, ho ricevuto questa bella piazza da te come un piccolo souvenir E' molto felice che ti piace Il patto di piazza giapponese tradizionale è molto chic Tu hai un buon gusto Fa yoga, praticamente, è un personaggio che fa yoga Figo, è un bel personaggio, mi capa Vedi questo, Yamasin? Deve essere in amore con me Ah, se questo solo avrebbe avuto un anno prima Bellissimo Vabbè, guarda Guarda come si vanta, oro Che nome è per assurdo Giusto E' un po' particolare sto versando Comunque Con il system pass che ho io del gioco Quindi con tutti questi versaggi che mi escono Perché sennò gli dovevo compare separatamente Ovviamente Oh Vabbè 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 Oh. Ok. Si si che sto leggendo raga. Ok. Ebbè ci sto. Semenano praticamente. Mo ti faccio chiarire. I cazzotti. Vabbè c'è sta loro due insieme. Alleati. Che combattono. E la madonna cosa sei. Comunque stavo dicendo oltre a questo. Però si vede che hanno uno stile yoga tutte e due. Da yoga e cose. E' proprio. Lui è proprio relax. E' la cosa più assurda che abbia mai visto. Ehm. Oltre a questo che volevo dire. No. E' un personaggio che non ho mai visto ed è. Mi piace. Mi piace. No. Il fuoco. Lo ho fatto male. Ehm. Dopo vediamo i costumi. Perchè hanno dei costumi alternativi. Perchè. Ehm. Ehm. Bello. Ehm. Praticamente stavo dicendo scusatemi che. Avendo il system pass. Avrò i costumi alternativi loro. Di tutti i personaggi. Insieme alle patch degli update. Dei personaggi in uscita. Li avrò gratuitamente grazie al system pass. Poi li vedremo insomma. Il si, il si è fatto. Si. Il si è fatto. Ehm. Si. L'esercizio. Quello. Si. Ehm. E' un po' che c'è un po' che c'è Possono avere il potere di salvare l'esterno Ah, bene, ok Cosa è la fortuna? Molti che cercano la vengono per la dominazione o la distruzione Suche cose sono una conseguenza naturale Ma sono ultimamente significativi Per l'esercizio, subjugare o anche killare quelli che ti opposano È solo una interpretazione della fortuna Però, se una mente libera da soli desideri E si caderebbero nel potere della... Se un uomo in modo chiaro, un stato di mente non esistirà Quindi quella persona potrebbe evitare l'apocalipsis Ma solo quella persona con questo tipo di potere Perché mi fa pensare a te? Beh, allora, credo che il curry è finalmente pronto Ah, beh sì Ah, prima mangiamo, vedremo Poi ti racconto, insomma, ok Vabbè, praticamente parla di Ryu Che Ryu è... Ah, il lato oscuro e il lato puro Che si sono poi distaccati, insomma Ok Ok, dopo vediamo i costume di oro E ora dobbiamo fare la campagna dell'altro personaggio Che sono tutte e due, appunto, della... L'unica cosa che mi dispiace è che mi ha messo Eleven Il personaggio che è un mutaforma Ma proprio come un personaggio extra, così, gratuito Ma alla fine è come copiare un altro personaggio esistente Ah, però, io ne ho fatti tutti questi Ah, sì Eh, beh, alcuni non li ho più ripetuti, è vero Akira, ora dobbiamo fare Akira Vediamo un po' te, Akira Un po' di raffreddore, ragazzi, scusate Quindi, questo è il posto Ho sentito molto su questa mancina È veramente così impressionante come tutti gli ho detto Ma mi ricordo se si stia davvero planando di avere l'altro in qui Una motociclista è questa Boh, vediamo chi è questa Vedete, le immagini sono diverse Ma la descrizione di te la donna Ma quando penso su tutte le delizioni delizioni che si servono sempre, non posso resistere! Huh? Chi è quello? Hey, non so chi sei Ok Ah, bellissimo Gli ha detto che Che è una cosa solo da ragazza Ma quella è una ragazza Oddio, come si muove? Figo Ahia, ho fatto malissimo Ah, bel colpo Ok Ah, non l'ho presa Ok Ok, ho fatto È un po' una che picchia Però mi piace come si muove Guardate qua Bellissimo Ok, andata Il costume è più quello che tiene attosso Motociclista proprio Rabbit Wave Metal No, non l'ho presa Questa qui No, tu sei vero, Buki, questo non è un ragazzo, guarda! Permettere a me presentare a Sra. Akira Kazama. Una ragazza? Si, scusami per la confusione. Da che noi due non abbiamo visto l'altro per molto tempo, abbiamo pensato di andare insieme a lavorare. Ma poi ho detto a Kanzuki-san di questo, e lei ha deciso di arrangare questa partita per tutti noi. Ok. Ah, ora ho capito perché mi ha invitato anche a me. Si, grazie per me invitare anche a me. Ora ho capito. Sorry, pensavo che sei un ragazzo. Sono Ibuki, quindi come ti senti? Beh, potrei dire. Ma perché non lo faccio, Akira? Ricordatevi? Beh, era un anno quando ero a misi per trovare a mio fratello. Allora, ero in una scuola ragazza. Allora, ero in una scuola ragazza. Allora, ero in una scuola ragazza. Sto portando la mia helmet per indagare myself. Ah, a chi? Oddio! Ecco perché è come Akane. Praticamente. Voglio diventare molto più forte. Sì. Ho bisogno di essere più forte. Ti combattere e aiutare a trainare. Quindi? No. Non esistirvi e mi attacchi. Chi sono questi due grossi là? Oddio. No, Stacey. No, ma perché non riesco a parare? Cioè, perché a parare? Dai, che ne voglia. No, non è difficile da usare. È solo che è molto tranquillosa lei. Vediamo se riesco a... Ah, io sto facendo malissimo. Madonna che cazzo è stata. Vittoria. Ok, no. Bel modo fare amicizia. Se a me è nanon. È bellissimo. Cosa? Cosa? Eh... Beh... Non abbiamo una partita di tà di bambini oggi? Ma hai già avuto una combattia con Ibuki. Perché non puoi combattere con te? Eh... Eh... È un po' troppo vicino, signora Sakura. Awww. Eh... Devi essere Kanzuki-san. Ma cosa? Ha ha ha. Ha ha ha. Quella è un pochino! Succedi sempre sui partner, Miss Sakura. Sei la svincia della legenda del leader comandale Daigo Kazama, perché? È un' orgoglio di Senatori. Ok... Paccaccioni! Ciao a tutti! Con la partita di Kanzuki. Madonna! Un vestito militare ad te! Delcoone Bakerie! Miss Sakura ha consigliato. i loro cacetti sono davvero davvero deliziosi ho sempre chiesto di cominciare i loro dolci è davvero una pubblica pubblica ci sono sempre persone che stanno in line hai comprato tutto nel mercato? ho fatto un po' di ricerca e ho notato che la compagnia ha un grande potenziale per questo ho comprato una macchina di macchina e mi ha comprato una macchina di macchina e mi ha detto di sapere come tutto tutto ciò che mi piace cosa? hai comprato la strada? sempre tendi a andare grande io posso cominciare tanto quanto voglio? allora, prima di cominciare Miss Akira Kazama potresti faremi l'onore di combattermi? cosa? Kanzuki-san avete rotto mi vuol dire che posso praticare la sua mossa speciale mentre abbiamo chiesto con l'altro dove eravamo tè e i dessert mamma, vedete che queste combattono? per parlare eh, tutto a posto sto benissimo eh, questa è un po' la faspezza tutto a posto e cazzottate proprio per spiegare la situazione no, è vero ma è abbastanza fredda di combatterti anche lo capisco allora, accetto la vostra spiegazione se trovo che le vostre sceglie sono a pari puoi cominciare tutti i dessert e ti invito anche alla mia barca privata allora, non mi scegliere sei l'avvio ti invito vai, figlio vai, fratello vai, fratello i tuoi non mi prendi sei l'avvio grazie combattere il vestito o colpito fatto ma è andata è andata ragazza aspettatevi la live di alle 6 dicono marvel savannah che aveva annunciato già dalla come si chiama dal blog tutte a mare Bene, siamo a mare, estate Va bene, va bene, siamo in estate Non riconosco quelle in fondo Quelle due in fondo, non le riconosco Però tiene il coso in te No, è lei, perché quelle due in fondo Non le riconosco Ah ma quello, oddio, quello là a terra E' il padre con Rikaten sotto la sabbia, è bellissimo E' il padre, il fratello Ok Due trame simpatiche effettivamente Mi ha sorprendito che pure stesso nel vlog Dissi che erano finalmente, avevano messo oro Sì ma ero sicuro che era solo oro infatti Almeno così era quello che avevo capito Perché io sapevo che dove è uscito un personaggio al mese Soprattutto che non era uscito nel mese scorso Ho detto vabbè, ma è uscito Con la patch di aggiornamento Invece Quindi con l'arcade Street Fighter 3 o Street Fighter Alpha Perché mi sembra che in Alpha C'era Alpha E 3 che dovrebbe aver messo Sia oro e sia Sia oro e sia Kira Infatti Infatti Doveve sta Guarda, avevano messo Dan Ok Eroos In Street Fighter Alpha Mentre Invece Street Fighter 3 Che mi avete messo? Fatemi vedere subito Ah, ecco Vedete, vedete Hanno messo oro Voglio vedere oro Storia Abito da battaglia E vedete Stile pubblicitario Tuta Ah, ok Quindi solo abito da battaglia Tengo tu con lui Quindi A Kira l'hanno messo 4 direttamente Al tuo punto Solo un secondo Però mi sembra Mi sembra che era molto più vecchia Cioè Non dal 4 Infatti Non c'è Dove è a Kira? Non c'è A Kira Forse è nel 2 Ma non mi sembra Non mi credo che Era anche nel 2 Ma credi sia Stupendo No Infatti Non è stata Giunta Non lo so Allora Ah, l'hanno messo solo Direttamente Nella Freefighter 5 Nel 5 A sto punto Per fare una versione arcade Alternativa Della trama Sì Perché ci sono tutti Versione storia Abito da guerra Che non lo capisco Nostalgica Non l'ho mai vista Costume da battaglia Stile pubblicitario Tutti in tuta Tutti in tuta Allora Io tecnicamente Potrei Nostalgica Non l'ho mai vista Aciba Oddio 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 Freddy忍 Akira Fatima Eh questa lezione qua Assun andiamo a partire! devo fare un po' di gameplay ragazzi da un pezzo che non faccio vabbè facciamo così facciamo una un combattimento un battle e ci facciamo solo un combattimento ultimo per concludere per vedere le nuove location alla rival ok quindi le nuove location è solo queste una sola location ah no queste le avevo già queste non le ho mai sbloccate volevo prenderle ritorniamo ecco Italia venezia allora potrei giocare con lei o con lui potrei giocare anche però il leve mi da fastidio perché il leve in realtà è un bel personaggio che mi ricordo che è un po' allungabile è un po' strano quel personaggio quindi tecnicamente dovrebbe avere dei suoi stili di combattimento invece l'hanno fatto come mutaforma cioè lo è anche però ero delle abilità vabbè facciamo oro no versione storia FORRAM 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 e facciamo contro akira ma c'è un ragazzo di nostalgia quindi il fatto che il nostalgia vuol dire che c'è stato come personaggio però io mi domando allora è Street Fighter 1 può essere dobbiamo controllare l'archivio di Street Fighter 1 però mi sembra di no poi se c'era vera eccolo qua avvi avvi l'annao c'è giustamente lol vediamo se riesco bella c'è comunque devo vedere atto sulla versione ok se faccio così invece com'era così qui invece ha contato ah no oh non ti ha azzardo proprio bella guarda delle combo ho la malonna ho fatto male ok è strano il personaggio bellissimo quel gol però fa male oh oh Sì, 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 sì. oro vince proprio oro si chiama in inglese overall se torna almeno seleziona personaggi arena e a sto a sto punto mi interessa moltissimo è stato a scegliamo però versione combattente ok vedete limited time on lì solo poi c'è un po' di farlo però a me da fastidio perché perché pratica tutte le stesse tecniche le unive di fare una variabile in la vanna diffusione di personaggi e con per fare Vabbè, Street Fighter alla fine usava personaggi particolari di... Ottimo, questo posto molo lo stavo riconoscendo, l'ho già visto in molti anime, queste location tipo... Sotto vicino io... Bella, andato! Oh, mamma mia! Tutta contenta, ok! Cerchio di finirla con una bella bomba! Bellissimo! Oh, yeah! Bella! Andato! Bellissimo! Bene! Posso stopparla qui? Qui del 38... Al prossimo video... E niente, torniamo al menu principale, perché mi vengono solo la curiosità di Street Fighter 1... Per vedere se c'è veramente, o che se è nostalgica... Deve per forza stare... Uno degli Arcade... Però... Mi hai curiosito, eh! Perché se non sta nel 3, non sta nel 4, non sta nel 2, non sta in Alpha... E non sta neanche qua! Vabbè, l'hanno messo solo nella versione 5... Va bene! Io qua vi saluto, ragazzi! Qui del 38, al prossimo video... E niente, stasera la live! Bella bella! Anzi a tu! Alle 6! Bella bella!